Questo è un problema della società, non è un problema mio. Io sono tornato alla Juventus sapendo le problematiche che c'erano alla Juventus, che era difficile tornare subito a vincere. Poi l'anno scorso è stata fatta una stagione dove fino alla partita in casa con l'Inter addirittura si parlava di Scudetto, poi la partita con l'Inter l'abbiamo persa, abbiamo perso una finale di Coppa Italia, abbiamo perso una finale di Supercoppa al 120esimo, quest'anno sono cresciuti tanti giovani. Dipende sempre da uno, nella vita le cose a seconda di come uno le vuole vedere e da come uno le vuole dire cambiano. Poi io non devo stare qui a difendermi perché non c'ho da difendermi di niente, io c'ho solo da lavorare come ho fatto sempre e credo che questi due anni, ora vedremo come finiamo questo anno, in questo momento qui abbiamo la possibilità ancora di fare bene e faremo il possibile. Poi se alla fine non ci riusciremo vuol dire che ci sarà stato qualcuno più bravo di noi, assolutamente. Fabiana, ma io non, ma io non, ma dillo te, scrivilo te, ma te hai un pensiero, scrivi il pensiero tuo, io non sono soddisfatto di niente, io non sono stato neanche soddisfatto quando abbiamo perso la Champions, cioè, che domanda è, scusa? Una domanda, ci sono delle domande diciamo più intelligenti che si possono fare, hai scritto... Questo è un pensiero tuo. Eh appunto, bravo, infatti te l'ho detto apposta, scrivi un tuo pensiero, scrivi allegri... Io sono qua per farti delle domande, ti faccio una domanda, io ti chiedo che cosa, secondo te, cioè quale cosa per te è soddisfacente alla fine della stagione. Ma non lo devo dire assolutamente a te. Come? Andiamo, ragazzi, senza microfono non si parla, quindi andiamo avanti, le ultime due domande, grazie. Io credo, guardate, io credo che nel rispetto dei tifosi, credo che io abbia avuto, io ho molto rispetto ai tifosi e li ringrazio per quello che stanno facendo. Io posso solamente mettere dentro la grande professionalità, la grande onestà, la grande onestà e il grande impegno nel rispetto della Juventus. Poi le difficoltà nella vita ci sono e quindi faremo tutto possibile per passarle. Ora in questo momento qui, ripeto, noi bisogna essere un gruppo granito, bisogna uscire da questa cosa. Da questa cosa, ritornare a vincere una partita di calcio. Poi se a fine stagione il lavoro, secondo la società, non è stato soddisfacente, la società prenderà delle decisioni, come giusto che sia, perché l'allenatore è responsabile di tutto. Il confronto con i giocatori non c'è stato, mi hanno detto che dentro lo spogliatore c'è stato. Quando una squadra perde, soprattutto la Juventus, vengono tirate fuori delle relazioni perché la gente ha molta fantasia e quindi vengono dette cose non vere. Io ripeto che l'unica cosa da fare in questo momento, come quando le cose non vanno bene, non è la prima volta perché poi mi capiterà ancora nei prossimi anni. Spero sempre di no, ma è impossibile, come diceva ieri giusto, l'altro giorno ho sentito la conferenza di Giannis sul fatto dello sport. Succederanno nei momenti in cui vinci un po' meno, però l'importante è lavorare con serietà e professionalità per cercare di creare presupposti per tornare a vincere. Poi vince sempre una squadra e quindi bisogna lavorare per far sì che siamo noi quella squadra lì. La cosa da fare in questi momenti è una, quella di stare zitti, come già è capitato nel momento di difficoltà, quando ci sono stati tolto i 15 punti, è capitato in altre stagioni. E lavorare e fare, ci sono 35 giorni importanti davanti a noi e non c'è altra scelta perché parlare serve a poco. Poi nel calcio quando non vinci sei dalla parte del torto e quando vinci sei dalla parte della ragione. Quindi come si suol dire chi vince è un bravo ragazzo chi perde. E quindi noi in questo momento qui bisogna solamente reagire al fatto che comunque abbiamo lasciato per strada un po' di punti in campionato. Se sono soddisfatto se vincessi il campionato, se vincessi la Champions, se vincessi la Coppa Italia, se vincessi... ma questo è impossibile. Però poi ci sono, se no devo ritornare al discorso, alla conferenza che ha fatto Gianni sia di sera, l'altra sera. Ci sono degli obiettivi, va bene? Come io ti potrei fare una domanda, te sei soddisfatta del lavoro che sta facendo? Se a fine anno, l'anno prossimo ti ritrovo qui a farmi le domande? Te lo domando perché, no te lo domando, faccio come Gianni, se no te lo domando, ma non lo dici a me. Cioè se l'anno prossimo ti ritrovo qui cosa vuol dire? Che hai fallito nel tuo lavoro? Beh ma questo dipende, mi giudicano gli altri o mi giudico da sola? Ma io non mi giudico da sola, io vengo giudicato dagli altri, ma io vengo giudicato dagli altri, capito? Sì, ho capito, però alla fine dell'anno ti ripeto, io so se sono soddisfatta, come hai detto giusto, ho capito, ma ora non te lo posso dire, mancano 35 giorni e abbiamo due cose in ballo, non te lo posso dire. Alla fine dell'anno, scusate, mi sembra una cosa normale, no? Ma il Napoli ha vinto lo scudetto, giusto? Benissimo? Poi c'è una che vince la Champions, giusto? Una che vince l'Europa League, una che vince la Coppa Italia. Al netto di queste cinque, tutte le altre hanno fallito. Infatti io non ho parlato di fallimento, chi l'ha detto ancora? Eh, ok, vabbè, tanto guarda, non è una discussione, a parte che non mi... Guarda, ora io sono sereno, mi diverto, è divertente questa cosa. Appunto, quindi non è un po' divertente per voi di quelli che scrivete un po' meno. Comunque, detto questo, vediamo, fa 35 giorni, 35 giorni rischi, non abbiamo mito nulla, Allegri è scarso, deve smettere, tanto non è che... È quello, ora questi 35 giorni, analizziamo quello che c'è da fare in totale serenità. Io credo che su quello che bisogna fare è ritornare a vincere una partita, perché è quella di domani? Basta, finito. Il resto non conta niente.